Musica Vedichiamo un momento alla preghiera, questa sera in famiglia, personalmente o ascoltando intanto che siamo in viaggio, io sono qui a pregare con i salmi e ho scelto di farmi ospitare dalla biblioteca ambrosiana, un deposito di capolavori, di tesori, unico nel mondo, particolarmente ricco di libri e di libri preziosi che contengono ogni genere di conoscenza e di scienza, ma in particolare questo libro che ispira la nostra preghiera è una Bibbia miniata, come qui ne sono custodite parecchie. Ecco, vogliamo pregare con i salmi e ricordarci che i salmi sono una preghiera antica, per questo mi ispiro a queste antiche edizioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il salmo proposto per il mercoledì, dice così, è il salmo 129. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere, ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. Ecco, nel profondo, nell'intimità segreta, inaccessibile a tutti che cosa c'è. Alcuni forse sono spaventati di quello che hanno dentro di sé. Pensieri di cui si vergognano, ricordo di azioni per cui sentono un grande senso di colpa o torti che hanno subito o fatto subire alle persone care. Cosa c'è dentro di me? Qualcosa che mi turba. Altri sono spaventati di quello che hanno dentro e perciò evitano di pensarci. Ma il salmista riconosce il suo peccato eppure nel profondo, nel più intimo del suo cuore, riconosce che c'è il perdono, c'è la parola che libera, che salva, che consola. Ecco, il Salmo ci dice dal profondo a te grido e nel profondo avverto la tua misericordia. Preghiamo, preghiamo perché la misericordia del Signore abiti in noi, sconfigga i mostri che ci turbano, guarisca le ferite che ci fanno soffrire. Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E consegniamo al Padre misericordioso tutta la nostra giornata, tutta la nostra vita, pregando dal profondo del cuore. Ti adoro, mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdona il male che oggi ho commesso e se qualche bene ho compiuto accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Continuate a pregare. Provate a leggerne la vostra Bibbia il Salmo 129. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte. Grazie a tutti.